Il tema di cui vi voglio parlare oggi è la marketing automation 2.0. Prima magari di introdurre il tema, per alzata di mano, chi sa o pensa di sapere, crede di sapere, cos'è la marketing automation? Uno? Due? Tre? Tu lo sai già però. Quindi l'idea di oggi è introdurre il tema, quindi vi parlerò un po' di che cos'è la marketing automation. E faccio un po' di premesse, perché non è un tema semplice. Non è un tema semplice, però mi viene in soccorso tutti gli speech di oggi, perché dallo speech di Nereo in avanti si è parlato molto di tutta questa parte, cioè tutto quello che è la data collection, il reporting, l'analysis, gli insight. Se parliamo di catena del valore strategico basato sui dati, cioè dare un valore al business partendo dai dati, va da sé che partendo dalla data collection bisogna arrivare alle azioni e alla business optimization. Per fare questo è necessario e fondamentale che si parta da una base solida, perché ogni punto di questa catena dipende dal punto precedente. Quindi se la collezione dei dati è il fondamento di tutte le azioni che andremo a intraprendere dopo, bisogna in qualche modo lavorare affinché le fondamenta siano solide. Quindi come quando si costruisce un palazzo e si parte dalle fondamenta, non è un caso, bisogna fare in modo che le fondamenta siano solide per poter poi arrivare su e costruire magari un palazzo che stia in piedi negli anni. Se le fondamenta sono solide, ho buone probabilità di riuscirci. Se le fondamenta non sono buone, anche se io poi costruisco benissimo sopra, rischia di crollare tutto. Quindi bisogna sempre chiedersi che cosa c'è nelle fondamenta e se effettivamente le fondamenta mi permettono di arrivare là in maniera solida e costruttiva. Che cosa c'è nelle fondamenta della digital analytics? Nel nostro caso parliamo di web track, c'è un database di dato grezzo in cui andiamo a far convogliare molteplici fonti di dati. Quindi si è parlato in tutti i vari speech, tracking dei siti web, delle app, campagne marketing, importazione dei costi marketing, tracciamento dell'e-commerce, tracciamento dei social media, campagne social, importazione di dati esterni, non importa che cosa siete in grado di tracciare con lo strumento di analytics, la cosa importante, ed è un consiglio che è stato dato da Nereo all'inizio e che ribadisco, è che a prescindere da che dati vado a raccogliere, è fondamentale, quindi torniamo sul discorso delle fondamenta, che l'implementazione, l'importazione dei dati sia corretta. Perché se ho un'implementazione sbagliata, errata, con errori, conflitti javascript, qualsiasi tipologia di problema, vado ad avere dei dati che sono errati e quindi a fare delle analisi, dei report e trarre delle intuizioni che sono errate. Secondo punto, bisogna anche sempre tenere presente che se oggi io ho un'esigenza e faccio un'implementazione, domani non è detto che la mia esigenza sia sempre quella che ho avuto all'inizio, quindi si evolvono le mie esigenze di analisi, si evolve anche l'implementazione, si deve evolvere nel tempo, devo essere sempre sul chi vive, devo ricordarmi sempre di farmi una domanda, se io voglio fare un'analisi su questo KPI, Key Performance Indicator, è un'informazione che sono in grado di reportizzare nell'analytics? La risposta è sempre, se hai il codice implementato nella pagina, probabilmente potresti farlo, se non hai il codice sicuramente non potrai farlo. Terzo consiglio, io dico sempre, quattro occhi sono meglio di due e otto sono meglio di quattro e via via. Questi tre temi, se ci pensate, sono un po' quelli di cui ha parlato Tilium, ha parlato Tag Commander, cioè ha parlato anche Web Ranking. La qualità del dato è fondamentale e il Tag Manager, per esempio, i Tag Management System ci aiutano anche, ci danno supporto a questo, così come anche le agenzie con cui lavoriamo possono darci supporto nel verificare che effettivamente l'implementazione sia adeguata ai requirement di reporting e tutto quello che ci andremo a costruire dopo. Quindi, se da un lato abbiamo la parte, chiamiamola bassa, di questa catena di cui andiamo ad agire tramite la digital analytics, o digital analytics, se vogliamo dirlo all'inglese, data collection, reporting e analysis, gli insight stanno molto sotto sul confine, sono più fuori che dentro dalla digital analytics, perché gli insight sono quelli che ci mettiamo noi, noi con la nostra testa, la nostra esperienza, appunto agenzie che ci danno consiglio su come trarre valore dai dati che andiamo a reportizzare. Quindi, se poi lo strumento di digital analytics è uno strumento evoluto, magari ci aiuta ad avere una parte di reporting e analysis sgravata da tutto quello che è la manualità, e magari riesco ad automatizzare report, automatizzare export di dati, di queste cose sicuramente aiutano. Però di per sé, gli insights, cioè le intuizioni, le idee, che noi mettiamo sul che cosa fare dopo, da lì in su, sono cose che devo mettere io, devo mettere l'agenzia, gli analisti, e purtroppo, oggigiorno, capita, mi capita, di sentire in vari meeting che, sì, bello, ho tanti dati, ma non ho le risorse, non ho il tempo per analizzarli, figurarsi, fare delle azioni poi sui dati. E quindi questo è un po' quello che contraddistingue, quello che secondo me è oggi il rapporto con i dati che abbiamo. Quindi questa foto, secondo me, rappresenta un po' il nostro rapporto con i dati oggi. Ci sono dei macchinari, dei tool, che sono più o meno sofisticati, e ci sono degli operatori. Questi operatori sono quelli che non semplicemente alzano la leva e fanno girare il macchinario, ma sono quelli che mi permettono di estrarre i dati e di ottimizzare quello che è il flusso dei dati che arrivano, selezionando quelli che sono interessanti e importanti e quelli che non lo sono. Quindi intanto, dalla mole di dati, dobbiamo decidere quali sono i nostri KPI, quali sono i Key Performance Indicator, su cui voglio andare a misurare il successo di una campagna marketing, piuttosto che di un restyling di un sito, o qualunque altra cosa vado a fare. E i dati non sono solo tanti, spesso sono tantissimi, a volte anche troppi. Quindi la domanda è, nel momento in cui io mi trovo di fronte un sistema che dalla Digital Analytics mi porta verso la Business Intelligence, devo anche essere in grado di agire sui dati e in qualche modo trovare degli aiuti, che siano sia umani ma anche software, per riuscire a automatizzare, per esempio, con i software, quello che sono azioni ripetitive nel tempo. Quindi in tutto questo, che cosa succede? Succede che la marketing automation è quel qualcosa che potrebbe essere considerato abilitante a questo. Questa è una foto che si riferisce a un altro mercato, non c'entra nulla col digital evidentemente, questo è il mercato della finanza, il New York Stock Exchange, anni 20, anni 30, adesso giù di lì non ho trovato esattamente l'anno in cui è stata scattata questa foto, vi presento il signor Jones, che sta, non so, comprando, vendendo un'azione, sta facendo qualcosa. Vi chiedo anche cosa faccia quello lì, che guarda nel vuoto. Però al di là di questo, cosa accadeva? Non c'era l'informatizzazione, gli scambi avvenivano per alzata di mano, semplicemente, quindi si era lì tutti in una stanza, più o meno pulita, e si cercava di vendere e comprare azioni. Questo era cosa avveniva prima dell'informatizzazione, per alzata di mano o anche a gesti, quindi qualcuno magari comprava le canestraccioil, qualcuno comprava le toro, ma sempre di azioni manuali si parlava. Si parlava di azioni manuali fin quando, a un certo punto, negli anni settanta, inizia l'informatizzazione del mercato azionario, dove, sì, c'era il data entry nei computer, però gli acquisti e le vendite venivano sempre fatti manualmente, con l'invio anziché l'alzata di mano, ma comunque sempre in modalità manuale. Poi cosa è successo? Dopo circa vent'anni, è arrivata l'automazione. Ora, al di là del fatto che la stanza è più vuota di gente, però c'è sempre un po' di carta a straccia, vedo, quindi, informatizzazione fino a un certo punto, quello che mi viene da dire è che, se vogliamo trovare un'analogia di cosa ha fatto l'automation al mercato finanziario, possiamo guardare una linea di trend dell'indice Dow Jones. Ora, chiaramente non è solo l'automazione che ha fatto qualcosa, c'è dell'altro, c'è l'economia che ha accelerata, influssi socio-geopolitici, però, se vogliamo vedere, dal 75 al 94-95 la crescita è stata abbastanza costante, ma non esponenziale, quindi con l'informatizzazione, se poi dal 95 in avanti c'è stata un'esplosione nel mercato finanziario, una parte di questo, delle cause, o meglio, un fattore abilitante è stata sicuramente l'automazione, più velocità nei cambi, più velocità nei tempi di reazione, nel poter comprare o vendere azioni, quindi tutto questo è una sorta di escursus per farvi capire che l'automazione permette, per definizione, automatizzare task ripetitivi, permette di essere più veloci. questa può essere una linea di trend, che vado a disegnare, e per analogia, vediamo, torniamo a quello che dicevamo prima, cioè il valore del business derivato dai dati, se noi andiamo ad analizzare cosa è successo dal, Nero diceva 1992, iniziamo ad analizzare i log file, quindi diciamo 95-2015, sono circa 20 anni che il mondo web analytics è nel nostro quotidiano digital, nel 2015 ci sarà sicuramente un inizio di adozione della marketing automation che secondo noi dovrebbe iniziare ad abilitare quello che è una crescita esponenziale, non tanto di quello che è ROI, di quello che è gli scambi monetari che facciamo, quanto vendiamo, ma quantomeno quante sono le aziende che inizieranno a utilizzare veramente i dati per ottimizzare il business. Perché diciamolo, quello che dicevamo prima, anche in altre, sempre nel mercato digital, quello che sta succedendo è con il real-time advertising, il real-time bidding programmatic, anche qua è un'automation, c'è un'automazione, e vediamo che diverse fonti, ovunque cerchiate su internet, danno che c'è una crescita anno su anno del 42-46%, qualcuno dice che entro il 2022 l'80% dell'advertising US sarà basato su real-time bidding. Quindi queste sono delle figure con cui possiamo o meno essere d'accordo, perché sono delle previsioni ovviamente, però quello che verifichiamo è che da due o tre anni si parla di real-time advertising, real-time bidding, e la crescita effettivamente c'è stata molto più velocemente che quando invece non c'era l'automazione. se parliamo invece quindi di quello che è la catena di valore che porta alla business optimization partendo dalla qualità del dato, digital analytics si ferma sul confine degli insights, la marketing automation è la gente, il fattore abilitante per andare sulle azioni. Quindi non sempre c'è la possibilità, non sempre si riesce a fare sempre un'azione dopo aver analizzato i dati, alcune cose possono essere automatizzate. Questo non vuol dire che io o voi dovremmo cercarci un altro lavoro, anzi sarà sempre più importante la parte degli insights, le intuizioni, perché comunque la marketing automation non funziona se non viene programmata. E come viene programmata? In base ai KPI che ho, gli obiettivi che ho, di business optimization devo istruire il sistema, quindi è lì che vogliamo arrivare. Quindi se oggi il numero di aziende, lo dicevo prima, che traggono valore dai dati è relativo, nel senso che ci sono fortunatamente, ma non sono quante potrebbero essere, domani con la marketing automation la possibilità di agire sui dati e dai dati, tradurli in azioni, sicuramente sarà più semplice. Parlare quindi di marketing automation, questa è stata la premessa che mi permette di arrivare a farvi qualche esempio di marketing automation a cui già siamo abituati, magari non ce ne rendiamo conto, però la marketing automation fa già parte un po' del nostro mondo digitale quotidiano. Il primo esempio non è strettamente un'automazione, però secondo me è un po' ciazzecca, perché avrete visto questa slide migliaia di volte, il contenuto è come l'acqua, lo metti in una teiera e prende la forma della teiera, lo metti dentro alla bottiglia, diventa con la forma della bottiglia, quindi di conseguenza se lo navigo con un tablet o un device mobile o con un computer, mi aspetto da utente che il contenuto si adatti al mio device. L'abbiamo capito, succede quasi quotidianamente, ancora non sempre, ma nella maggior parte dei casi sì. Ovviamente non è che c'è un omino nell'IT che a seconda del device che si connette abilita una pagina piuttosto che l'altra, i CMS già automatizzano tutta questa attività e gli strumenti di analytics già anche il reporting su questa attività e quindi già mi permettono di estrarre i miei KPI a prescindere dal device utilizzato, ma immediatamente poi poter segmentare e fare drill down sul device utilizzato. Secondo esempio, e questo è un assist poi per Alessia visto che parlerà di quattro ruote, email marketing. tutti sappiamo cos'è, ne parliamo, l'email marketing non è altro che l'automatizzazione scusate, l'automatizzazione nell'email marketing è intanto l'invio non è manuale ma c'è qualcosa che invia le mail automaticamente, che sia un servizio in house o un servizio in outsourcing, sempre questo è. Ma anche la creazione dei contenuti sulla base di quello che mi dice il CMS può essere automatizzata, quindi non è che io ogni mese, ogni settimana o ogni giorno devo pagare un redattore per creare l'email da mandare ai clienti abbonati o chi si è iscritto alla newsletter o a chi voglio mandare un adem. Il CMS in automatico compone le mail magari anche sulla base di profili che voglio andare a targetizzare, quindi automazione da un lato, personalizzazione del contenuto che viene inviato dall'altro. Ultimo esempio, forse quello con cui abbiamo un po' più di familiarità è l'Abitesting. Allora l'Abitesting sapete se ne è parlato in più occasioni oggi serve un contenuto A o un contenuto B oppure un contenitore diverso A o B faccio un confronto sulle performance sulla conversione che ognuno di questi mi porta o una multivariate testing cambiando piccoli elementi qua e là sulla pagina dopodiché valuto quale delle due versioni o tre o quattro che siano mi ha portato più conversioni quello che vince quindi abilito quello di default per tutti gli utenti per esempio. Ora l'automazione non è solo nel servire il contenuto A o il contenuto B che già è qualcosa ma è anche nell'abilitare quello che funziona meglio sulla base dei miei KPI se il mio obiettivo è fare una vendita abiliterò la versione A o la versione B che mi ha fatto fare più vendite nell'unità di tempo oppure abiliterò la versione che mi ha fatto aumentare il numero di pagine per visita se io sono un editore e non un sito e-commerce questi sono solo tre esempi che vi introducono un po' a quello che è il concetto dell'automation che già oggi noi vediamo sostanzialmente se però vogliamo spingerci oltre quando noi parliamo di marketing automation ho messo il 2.0 perché si parla di qualcosa di più rispetto a quello che abbiamo visto finora e qua lo leggo vuol dire mostrare il messaggio appropriato e il contenuto adeguato sul device selezionato nel canale più efficace e nella posizione migliore solo all'orario prestabilito con il maggior margine di profitto ai vostri clienti on-site e off-site ma solo al target selezionato o corretto quindi se riuscissimo a fare tutto questo con un bottone non sarebbe male il problema è che bisogna dire al sistema quali sono tutte queste variabili quindi gli insights l'intelligenza che noi possiamo mettere per istruire il sistema rimane forse ancora più il vero valore aggiunto che possiamo dare noi come vendor esperti di analytics le agenzie come esperti di dati e quindi tutto questo messo insieme fa sì che probabilmente da qui al prossimo futuro non solo riuscirete si riuscirà a trarre più valore dai dati ma anche farlo in maniera molto più efficace ogni punto della catena del valore che abbiamo visto prima ha un suo strumento specifico io sono web track non posso che parlare di web track quindi da una parte data collection quindi tag integration tutto questo significa anche che si possono usare gli strumenti nativi ma si possono usare le terze parti i tag management system che sono sicuramente più sofisticati nel nostro caso tag integration è semplicemente un facilitatore per inserire i nostri plugin per pilotare quello che è la marketing automation che sta più in più in fondo però chiaramente il tag management system abbiamo visto che fa molto di più strumenti di digital analytics e customer journey per fare reporting e analysis parlando questo è l'unico momento in cui mi sentirete parlare di customer journey attribution modeling poi abbiamo gli insights quindi le intuizioni che faccio grazie all'habitesting o il multivariate testing ma anche grazie a uno strumento di user relationship management che cos'è è un crm in cui però vado a mettere anche dati di utenti non registrati quindi user relationship management per noi è il fulcro di tutto quello che sarà poi abilitante grazie alla marketing automation lo vediamo tra poco dall'altro lato le azioni le azioni come le vado a fare con marketing automation e contestualmente real time advertising posso ottimizzare i contenuti on site ma anche off site quindi quando noi diciamo che la marketing automation abilita abilita che cosa ad agire in maniera più o meno automatica però devo agire se non agisco l'analisi dei dati quindi quello che sta sotto rimane un po' fine a se stessa che per carità è sempre utile avere dei reporting cioè la conoscenza è nulla senza controllo si diceva una volta secondo me è sempre valido però si parte da sinistra quindi dato grezzo ho degli insights in real time posso creare segmenti creare filtri custom dopodiché vado a lavorare sugli utenti perché poi è quello che sta al centro di tutto l'utente è al centro del mondo digitale l'abbiamo visto oggi molte a più riprese il cluster posso clusterizzare su reach frequency e monetary o reach frequency engagement per creare degli utenti dei cluster di utenti basati sul numero di interazioni che fanno col mio sito con i miei prodotti con le mie campagne quindi creo dei cluster dove a un utente do un punteggio in base a determinati kpi che vengono raggiunti dall'utente stesso creo il customer lifetime value vado a misurarlo vado anche a creare dei tool che permettono di fare delle previsioni churn probability oppure il predictive lifetime scusate predictive customer lifetime value cioè quanto potenzialmente quest'utente potrebbe convertire in termini monetari da qui alla sua vita di cookie o di utente registrato posso aggiungere come qualcuno aveva detto prima insights quindi intuizioni da piattaforme di survey online per esempio che possono essere piattaforme terze oppure la piattaforma che web track mette a disposizione per erogare le survey da tutto questo una volta che arricchisco il database dei miei utenti posso poi effettuare delle azioni che sono raccomandazioni email targetizzati real time advertising off site e anche con l'ausilio di qualche plugin la churn prevention io vedo che l'utente sta per abbandonare il sito o sta per abbandonare un processo di conversione un processo di registrazione e prevengo questo agendo sull'utente in real time vediamo poi magari dopo come quindi l'utente al centro di tutto noi andiamo a creare una scheda utente che può essere utente anonimo può essere utente registrato che quindi oltre ad avere un id avrà anche un nome e cognome che non è magari a carico dell'analytics ma è nel crm del cliente abbiamo l'integrazione di informazioni che provengono da survey abbiamo tutte le informazioni che raccogliamo sulla misurazione di quel singolo utente quanto acquistato quanti carrelli abbandonato qual è il suo lifetime value a sinistra abbiamo raccomandazioni sul sito quello che noi chiamiamo exit intent technology cioè cerco di prevenire che l'utente abbandoni il funnel per esempio dall'altra parte real time advertising ognuno di questi tre mondi va a alimentare quello che è la scheda del nostro cliente o in questo caso del nostro utente che sia anonimizzato che sia anonimo oppure cliente queste schede che vengono quindi arricchite di tutte queste informazioni mi permettono poi di targettizzare ancora meglio tutte le azioni marketing che vado a fare io spero che questo escursus vi abbia dato già un'idea un po' più precisa di che cosa potrebbe essere la marketing automation in realtà forse la cosa migliore è parlare di esempi d'uso ce n'ho qua qualcuno poi se sforo coi tempi fammi 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 segno esempi d'uso quindi io leggo leggo brutalmente problema non ho molti clienti registrati sul mio sito come faccio a profilare gli utenti anonimi per poi targettizzarli più efficacemente questo è un problema che affligge tutti gli editori online ma anche qualche sito che non è per forza di e-commerce oppure siti di e-commerce che non obbligano l'utente a registrarsi in questo caso quindi molto semplicemente una soluzione è usare il survey widget disponibile dentro la marketing automation di webtrek per raccogliere le informazioni sugli utenti del sito arricchendo quindi il database dello user relationship management che vedevamo prima questa è la survey che potreste erogare quanto ti piace la sezione musica quanto ti piace la sezione lego quanto ti piace il mio sito in generale sei uomo o donna che ta hai dimmi il tuo cap invia i dati quindi molto semplice come survey è giusto per arricchire un po' quello che è il database dei tre utenti del mio blog dopodiché potete una volta creato arricchite le schede utenti analizzare anche in base ai risultati e quindi avere un target sulla base delle risposte date alla survey molto banalmente altro problema ho identificato il target quindi sono già allo step successivo è interessante questo target sono donne 25-30 che non hanno mai acquistato sul mio sito quindi questo è il target che ho in testa e quindi vorrei mostrare loro la campagna compra questo solo a loro non a tutti quanti quindi caso d'uso creo il target nello user relationship management e seleziono quel target specifico nella marketing automation quindi quando vado a definire la campagna nella marketing automation definisco il titolo il cosa il chi e quindi vado a selezionare il target che ho appena definito il dove e il quando e posso attivare la campagna quindi gli step sono molto semplici molto lineari se vogliamo tutto questo chiaramente possibile solo se la base dati è solida se non abbiamo i dati non si riesce a fare nulla conoscere la localizzazione del mio utente mi aiuterebbe ad erogare un contenuto ancora più personalizzato per esempio nella lingua corretta e di conseguenza aumentare il conversion rate del mio sito quindi in questo caso oltre a selezionare il target su quello che è il dato di behavior dell'utente vado anche ad aggiungere la componente geografica in questo caso nell'esempio tutti gli utenti che navigano da berlino e decido che chi naviga da berlino parla tedesco io aggiungerei un altro fattore che è la lingua se l'utente è un utente registrato quindi se l'utente è registrato e so che è un italiano se anche naviga da berlino gli erogo la creatività in italiano però sono tutte considerazioni che ripeto appartengono a quel pallino degli insight delle intuizioni che l'analytics non è in grado di fornire to cure altro caso d'uso voglio mostrare ai miei clienti un box di suggerimento con scritto chi non l'ha mai visto chi ha comprato questo prodotto ha comprato anche questi altri prodotti oppure semplicemente potrebbe anche interessarti questo è una cosa che i sistemi di crm di e-commerce magari già offrono out of the box e si tratta semplicemente di implementarli tuttavia come faccio a selezionare il target come faccio a selezionare qual è il catalogo che voglio proporre agli utenti come faccio a costruire un widget che di fatto fa questo tipo di analisi per me a automatizzare questo noi abbiamo tutti i dati in pancia quindi si tratta semplicemente nel nostro caso di andare a selezionare la regola per esempio noi abbiamo già dei widget che danno già la regola di associazione che si vuole utilizzare nel proporre i prodotti correlati e automaticamente vado a creare un carosello che conterrà i prodotti selezionati sulla base della regola che ho appena impostato nella marketing automation in più posso andare a definire il formato il look and feel quindi quello chiaramente deve essere personalizzato per potersi integrare nel sito senza essere un pugno in un occhio sostanzialmente altro problema quando promuovo dei prodotti che non sono disponibili perdo dei soldi questo è una banalità da dire però è così se io faccio una pubblicità attiro un utente sul mio sito per comprare un prodotto quel prodotto è autostock in backorder cosa faccio perdo dei soldi che probabilmente nel frattempo verranno spesi altrove e in più faccio un po' una figuraccia col mio cliente ma come ho cliccato su un banner per comprare quel prodotto arrivo il prodotto non è disponibile per essere acquistato quindi questo mi permette di introdurre il tema di importare all'interno del sistema di analytics che poi verrà utilizzato per l'automation variabili custom di cui abbiamo già sentito parlare anche in altri interventi per qualificare ulteriormente le informazioni che andiamo a raccogliere e aggiungere informazioni e aggiungere possibilità di segmentazione e quindi anche aggiungere possibilità di filtrare il catalogo il catalogo ossia elenco dei prodotti che devono essere oggetto di campagna escludendo banalmente quelli che non sono disponibili quelli di cui non ho giacenza altro esempio potrebbe essere lo vediamo tra poco quello di promuovere i prodotti che hanno alta marginalità se voglio magari fare un burst alle mie vendite ma lo vediamo tra un attimo quest'altro esempio è quello di cui parlavo prima l'exit intent cioè prevenire che l'utente abbandoni il sito quindi un utente entra nel sito per richiedere un preventivo online a un certo punto prima di completare il processo di acquisto piuttosto che il processo di preventivo abbandona il sito vorrei trovare il modo di intercettare quest'utente prima che chiuda il browser e proporre uno sconto sul preventivo in modo da invece invogliarli all'acquisto un po' come sulla piattaforma di email marketing prima c'è stato definito il caso di Ikea dove l'utente mette nel carrello non compra e gli arriva la mail il giorno dopo qui si va a intervenire in real time direttamente sul sito quindi se vado sull'home page di web track entro sulle soluzioni data driven marketing sposto il mouse per chiudere il browser in alto a destra in alto a sinistra secondo se è Mac o PC e automaticamente mi viene fuori questo banner che mi dice se sei interessato alla digital analytics puoi testarlo gratis per un mese verrai contattato da me e da Nicola per poter attivare il vostro account senza impegno quindi questo è un modo che si può cercare di utilizzare per ingaggiare i vostri clienti a non abbandonare il sito prima che abbiano fatto l'azione che voi volete che loro facciano la raccomandazione dei prodotti può avvenire anche per quello che non sono veri e propri prodotti se io sono un editore non vendo prodotti ma vendo articoli in qualche modo non li vendo ma voglio che vengano consumati e quindi se io non ho prodotti da raccomandare ai miei utenti però magari voglio suggerire che articoli loro potrebbero voler leggere o che video potrebbero con che video potrebbero voler interagire per esempio e quindi con WebTrack si può anche creare un catalogo di quello che sono le pagine o i video e utilizzarlo come base per creare un carosello come questi che ci sono sul nostro sito per proporre contenuti diversi a seconda di quello che sta facendo l'utente in quel momento o in che sezione si trova o qual è il suo RFE per esempio quindi reach frequency e di engagement se un utente che fa almeno 10 pagine per visita magari evito ma se uno che ne fa 2 magari voglio che aumentino queste pagine per visita ultimo esempio alcune categorie di prodotto vengono promosse più di altre semplicemente perché generano ricavi molto alti a volte succede questo il prodotto mi sta generando tanti ricavi spingo quel prodotto perché funziona però poi le categorie di prodotto ce ne sono alcune che hanno alta marginalità e altre che ne hanno bassa marginalità allora voglio essere in grado tramite la marketing automation di agire sul catalogo importando magari quello che sono i dati sul margine di ogni categoria o di ogni singolo prodotto e magari selezionare solo i prodotti ad alta marginalità in determinate fasce orarie per andare ad ottimizzare quello che è il catalogo che vado a suggerire nelle mie campagne marketing